Eccoci, vediamo appunto anche la formazione appunto sul listing di Open Campus che è il trentunesimo progetto per l'esattezza ad essere lanciato da Binance, quindi quello che ad oggi rimane l'exchange centralizzato più importante presente sul mercato. Open Campus che è un progetto insomma molto buono soprattutto perché tratta dal mio punto di vista di un, o comunque vuole andare a risolvere quello che è un tema secondo me anche abbastanza importante, cioè l'obiettivo di Open Campus è quello, si tratta in questo caso di un progetto Web3 decentralizzato che ha l'obiettivo insomma di andare a, che è rivolto sicuramente agli educatori, a quelli che sono i creatori di contenuti agli studenti e ai genitori, che è quello appunto di, l'obiettivo sarebbe affrontare le principali sfide dell'istruzione di oggi. Quindi stiamo parlando di un progetto che punta a decentralizzare il campo dell'istruzione con il campo dell'educazione. Il token Edo verrà lanciato domani, quindi da domani si potrà acquistare per tutti su Binance. L'orario esatto non è ancora stato annunciato, sarà probabilmente, dovrebbe essere le ore 12, però insomma ci atteniamo appena abbiamo l'orario esatto, lo inseriremo. Ad ora ci risulta che sarà le 12, quindi siamo un orario di pranzo. Si partirà da 0,05 dollari, quindi è molto importante da sapere in vista poi anche di capire a che tipo di target entrare ed eventualmente uscire. Per chi fa parte della community VIP, quindi per chi ha seguito la presale, sarà molto semplice perché si troverà gli edu acquistati sul proprio Binance nella sezione spot. Quindi come si fa? Bisogna semplicemente recarsi, questo lo farò vedere, bisogna semplicemente recarsi sul proprio, su trading spot e potrà fin da subito, quindi già dal momento del listing, andare a scambiare gli edu e quindi trasformarli, in questo caso, in USDP. Come si fa? Naturalmente dalla barra di ricerca, bisogna andare a ricercare la coppia, quindi non Bitcoin USDT, ma edu contro USDT, che in questo momento non è ancora presente, sarà presente già molto probabilmente da domani mattina. Quindi qui si scrive edu, che ripeto è l'acronimo del token, e sotto ci comparirà la coppia edu contro USDT, che andremo a selezionare. Faccio un esempio con un altro token, che abbiamo visto anche di recente, mi riferisco a id, quindi facciamo un esempio banale. Fate finta come se questa coppia fosse edu contro USDT, ma in questo caso è id contro USDT. Siamo su questa sezione e quindi qua sotto, naturalmente abbiamo la possibilità per chi appunto ha partecipato alla pre-sale, di andare a vendere fin da subito i propri edu. Ok, quindi essendo stati acquistati a 0,05, insomma fate due calcoli, poi faremo anche il sondaggio per capire eventualmente che valore può raggiungere. Però ecco, sappiate che 0,05 vuol dire che a 50 centesimi siamo un per 10, ok? Quindi a salire, a 50 centesimi siamo un per 10 e a un dollaro siamo un per 20, se non ho fatto i calcoli sbagliati. Quindi come si fa? Si può impostare eventualmente anche più ordini di vendita, stiamo sulla sezione vendi naturalmente. Selezioniamo a che valore vogliamo vendere, quindi in questo caso possiamo appunto fare 0,50, magari 0,50 è già troppo basso. Possiamo anche eventualmente impostare un dollaro e vendere ad esempio il 50% di quelli che sono i nostri edu a disposizione. E impostare, quindi naturalmente puoi fare vendi ed impostare un ordine di vendita. Successivamente possiamo impostare un altro ordine di vendita, ad esempio ad un valore maggiore, quindi un dollaro e due e così via. Questo per chi appunto deve semplicemente vendere domani al listing, quindi domani, ripeto, domani 28, venerdì 28 aprile su Binance. Per chi invece deve acquistare dovrà cercare di accapararselo il più possibile vicino ai 5 centesimi. Sarà molto difficile perché naturalmente nei primi minuti partirà bomba. La strategia migliore sicuramente è quella di o essere molto veloci e quindi cercare di acquistarlo fin da subito, quindi appena partito, appena listato, oppure lasciarlo andare e successivamente quando chi ha acquistato appunto in pre-sale venderà, perché giustamente avendolo già acquistato a 0,05 ad un per 20 o ad un per 10 o ad un per 15 sicuramente si venderà perché si andrà a portare il profitto. Una volta diciamo che è acquistato prima, che è acquistato in pre-sale vende, allora in quel caso ci sarà sicuramente un dump, quindi il grafico andrà giù e quindi potrebbe essere molto intelligente per chi appunto deve ancora acquistarlo inserire diversi ordini di acquisto a scendere. Quindi in questo caso naturalmente con degli importi che possano essere quantomeno realistici, ecco quindi magari già ad un per 10, quindi a 50 centesimi potrebbe essere magari conveniente cercare, insomma avere dei primi ingressi poi eventualmente a scendere, quindi 0,5, 0,4 e così via. Per questo naturalmente per chi dovrà acquistare. Stessa cosa, quindi si inserisce l'importo che si vuole acquistare, si inserisce l'USDT che si voglia spendere per l'acquisto e qua sopra avremmo la quantità di ID che ci spetta nel caso in cui l'ordine appunto venga fillato, cioè venga preso in considerazione. Naturalmente abbiamo insomma grosse aspettative perché verrà listato su Binance. Ah ecco, cosa molto importante, domani per quanto riguarda Open Campus abbiamo diciamo notizia che sarà listato esclusivamente su Binance, quindi non lo troverete su altri exchange centralizzati. Verrà sicuramente listato anche su un exchange decentralizzato e sarà anche su App, in un momento successivo comunque in corrispondenza del listing su Binance, però onestamente noi inseriremo il contratto qua sotto come sempre su tutti i token in modo tale che voi non vi possiate sbagliare, però ecco vi consiglio di fare molta attenzione ad acquistarlo sui exchange decentralizzati come PankaySwap perché rischiate di incappare in scam, quindi consiglio mio personale è di stare molto attenti ad operare sul decentralizzato su questi progetti, perché siccome si tratta di un progetto molto grosso, molto importante, ci saranno sicuramente tanti scamoni già fin da ora, adesso onestamente già prima ci stavano contattando, c'era arrivato il classico messaggio su Telegram dove ci diceva che Open Campus Edu è già listato e quindi di acquistarlo. Quindi fate molta attenzione, affidatevi esclusivamente a Binance o eventualmente a PankaySwap utilizzando il contratto che lasceremo come sempre sotto il progetto. E come sempre lasciamo il sito web e i canali social del progetto se volete andare a visualizzarli e la possibilità di lasciare il cuore. Vi ricordo come sempre che dove viene lasciato più fuori, poi il listing va meglio. Questo è quello che narra la leggenda e ChangeGPT l'ha dimostrato perché ha fatto e sta facendo molto bene.